Settimo sciopero e doppia protesta a Bari dinanzi a Via Capruzzi e sotto la presidenza regionale per i dipendenti delle Sanità Service Pugliesi. I lavoratori sotto la sigla sindacale dell'USB contestano la regione per lo smantellamento delle internalizzazioni sanitarie. Oltre 6.000 lavoratori assorbiti e assunti dalle ex cooperative esterne sin dal 2008. Nel 2013 però la Giunta Vendola ha fatto dietro front con le linee guida emanate dall'allora assessore Gentile. Lo sforamento dei costi secondo le nuove regole provoca il ritorno ai privati dei singoli servizi di pulizia, guardiania ed altri. Il tutto avviene anche per un solo centesimo di deficit entro tre mesi dalla verifica contabile. Stesso dicasi per l'intera agenzia pubblica laddove dovesse presentare perdite in bilancio. Il nuovo corso è stato applicato nella Sanità Service di Lecce a dicembre scorso. Qui è stato sottratto il servizio informatico e affidato all'esterno nonostante un risparmio realizzato da 1,8 milioni di euro. Il sindacato è fortemente preoccupato per il futuro dei lavoratori stante l'imminente scadenza elettorale. Una delegazione ha incontrato il presidente in trona che ha promesso di coinvolgere i capigruppo di partito. Nessun assessore invece ha ricevuto i manifestanti. Un pugno nello stomaco, forse un ben servito dopo aver a lungo caldeggiato negli anni scorsi la battaglia sulle assunzioni sanitarie.